Camoped per il recupero funzionale del ginocchio Camoped è un sistema di riabilitazione attivo dopo un intervento chirurgico al ginocchio. Camoped è la soluzione ideale sia per ripristinare la forza ed il controllo della muscolatura dell'arto infortunato, sia per il recupero del sistema neuromotorio che ha subito un intervento chirurgico al ginocchio. Dopo un intervento al ginocchio, legamento crociato anteriore, legamento posteriore, cartilagine rotulea, legamenti collaterali, artroscopia o sostituzione protesica, è importante ripristinare gli angoli dell'articolazione per un recupero totale della mobilità del ginocchio. Senza il recupero degli angoli articolari si avrebbe un arto che non si flette e che resta rigido con perdita del recupero funzionale dell'articolazione. Camoped dà la possibilità di estendere e piegare la gamba, esattamente come se si camminasse. Camoped è uno strumento per la terapia attiva che stimola i recettori del sistema senso motorio per un recupero funzionale veloce. Camoped garantisce un allenamento mirato, favorendo il recupero della stabilità e della sensibilità proprioccettiva. Il lavoro attivo coinvolge tutti i gruppi muscolari della coscia, della gamba e della caviglia, che hanno una forte correlazione tra di loro, per eseguire un movimento preciso e forte allo stesso tempo. Vantaggi Recupero della sensibilità per i movimenti del ginocchio Recupero e mantenimento della mobilità del ginocchio Interazione ottimizzata dei diversi gruppi muscolari per la stabilizzazione dell'articolazione Recupero del coordinamento e del controllo naturale della muscolatura Prevenzione della riduzione della massa muscolare Ed equilibrio della forza della muscolatura per la flessione e l'estensione Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!